Oggi siamo qui perché è una giornata importante per presentare delle iniziative che convolgono i migranti, i ragazzi di questo centro, che è un centro per minori non accompagnati. Diciamo che uno degli obiettivi più importanti dei vari centri di accoglienza come lo è questo, è quello di creare dei percorsi personalizzati in modo che l'individuo possa acquistare o riacquistare una propria autonomia proprio anche per avere un'attiva partecipazione nel territorio in termini di integrazione. Le officine interculturali nascono proprio da questa esigenza, infatti questo brand, officine interculturali, racchiude una serie di iniziative che vedranno coinvolti appunto i ragazzi dove attraverso la cultura, l'arte dei laboratori artigianali nasceranno dei momenti di condivisione e di integrazione tra i ragazzi e la comunità locale, i giovani del territorio. In particolare oggi vorremmo promuovere, tra virgolette, pubblicizzare tre iniziative che hanno convolto soprattutto i giovani delle diverse associazioni calatine, dell'Avis, Croce Rossa, Usa Sport e l'associazione sportiva Audax.